Accogliere le donne vittime di violenza è questa la finalità del progetto Una stanza tutta per sé, presentato presso il comando della Polizia Municipale di Torino. Inaugurata poi la nuova sala d'ascolto, allestita a cura del Store Optimist International Club di Torino, con il sostegno della consulta femminile regionale del Piemonte. Presente all'iniziativa, la vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Daniela Ruffino. Un progetto importantissimo, una stanza tutta per sé, per le donne in difficoltà, per quelle donne che tra le mura domestiche subiscono delle violenze e non hanno uno spazio o un rifugio. Direi una collaborazione importante tra Store Optimist e la consulta femminile. È un momento particolarmente importante, ci avviciniamo all'8 marzo, con tanti progetti che sono stati portati avanti dalla consulta femminile e credo con un grande impegno da parte del Consiglio regionale del Piemonte.